Mi sto improvvisando aspirante fotografa, non so se vedete Dopo mi fa uno shooting di foto Mettiamovi un attimo a poco, siete bellissimi tutti quanti Hello everybody Ciao a tutti e tutte, eccomi qui con un nuovo video O meglio dire una nuova collaborazione Oggi sono qui con Cleo E finalmente ci vediamo Perché abbiamo fatto una collaborazione un sacco di tempo fa Ma non ci eravamo visti Invece questa volta ci possiamo toccare Siamo persone reali E che bella voce che ho Nulla, siamo qui per fare il 7 second challenge Che ho sempre desiderato filmare E quindi oggi lo filtrò con Cleo Spero che lei non sia troppo mischina con me No, io sono creativa, lei forse è più Che è più crudele E abbiamo registrato un video anche sul canale di Cleo E vi viene già da ridere Perché abbiamo fatto Ci sono parte certe risate allucinanti Quindi andatelo subito a vedere Detto questo Let's get started Devi bere questa bottiglia d'acqua in 7 secondi Che cazzo non è? Oh mio Dio, aspetta Prego Cleo, divertiti Guarda che c'è il mio Qualcuno ha già bevuto forse da qui Vado, non riuscirò mai Dimmi via che devi contare i 8 secondi 3, 2, 1, via Mi spiace che le ho perso Ah, mi spiace Cleo, hai perso Cioè ne abbiamo da tantissimo, devo dire Troppo Troppo Qua era di Cleo Voi siete Leo o siete Clea? Siamo Clea Clea più C Clea perchè sennò qua ci sono le Clea che fanno un video e vedo il loro video con il vlog ciao a tutti in 7 secondi devi riuscire con le cose che ci circondano devi riuscire a diventare un unicorno via è un unicorno perfetto in 7 secondi devi dire 7 cose che ami i One Direction già lissa il sushi oh mio dio ringrazio mi dispiace in 7 secondi devi dire 5 cose che iniziano per M via mamma mucca mattina motore mammina mammina mi dispiace 4 cose ma mammina andava bene ciao Giada ciao mamma e mammina non vanno bene vero Giada che non vanno bene no non vanno bene ma Giada tu mi devi sostenere no piccino si vanno bene allora ho vinto devi dire in 7 secondi tutti i nomi delle youtuber che ci sono qua lea lea sofia gialissa moriaggiata io Cleo brava io Cleo ok ma perchè devi confermare la tua presenza io allora in 7 secondi devi dire al contrario il mio nome e poi il tuo nome tu sei scema ho visto che era facile caro Cleo caro Cleo in 7 secondi mettiti un pugno in bocca tutto devi farlo entrare non ci sto non ci sto come è bello tu adesso? bello? no la sfida è bestemica per me e nulla questo video è finito nuovamente ho perso un polmone che sa che dire speriamo vi sia piaciuto ricordatevi di mettere un pollice in su e di andare a vedere il video che abbiamo filmato sul canale di Cleo e iscrivervi al suo canale per tantissimi video perchè lei è brava lei vi fa spesso non è come me povera non impegnata troppo e quindi nulla un enorme bacio e ci vediamo al prossimo video o alla prossima collab ciao